Poi imposto produzione e giriamo, ora tu ti stai riprendendo, oppure stai riprendendo avanti Poi riprendendo, oppure stai riprendendo, oppure stai riprendendo avanti Poi riprendendo, oppure stai riprendendo avanti Poi riprendendo, oppure stai riprendendo, oppure stai riprendendo avanti Poi riprendendo, oppure stai riprendendo avanti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.